Stava con ogni probabilità andando a lavoro Daniela Costa Curta, dipendente luxottica, quando la sua auto si è scontrata con quella condotta da una ventunenne di origini pakistane. Entrambe procedevano in direzione nord al chilometro 74 nel tratto della 27 Trafadalto e il casello di Belluno, subito dopo la galleria cave. Lo schianto è stato micidiale per l'operaia 49enne residente in via Monti a Vittorio Veneto. Non c'è stato nulla da fare con i soccorsi allertati da un residente della vicina frazione della Secca che ha sentito delle urla squarciare l'ennesima alba drammatica sulle strade del Veneto. Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Belluno e del distaccamento di Vittorio Veneto e così l'elicottero del suem 118 da Treviso. La ventunenne è stata trasportata al cafoncello in gravissime condizioni. Qui sta lottando per la vita. A occuparsi della dinamica dell'incidente sono gli uomini della polizia stradale. Bisogna capire come mai le due auto siano entrate in collisione. Un sorpasso azzardato, la mancanza di distanziamento, una distrazione ma vista l'ora anche un fatale colpo di sonno. Sull'asfalto i segni della tragedia dopo un weekend da bollino nero per esodo e contro esodo. Costa Curta era conosciuta nel suo quartiere come una persona riservata nei suoi social a trasparire e l'amore per i gatti. Profondo il cordoglio della comunità. Dispiace perché questa mia concittadina che non conoscevo personalmente però era di giovane età, aveva 49 anni. Purtroppo quasi quotidianamente veniamo raggiunti da queste notiziacce e la strada continua a mettere le sue vittime, non dico quotidianamente ma con una frequenza mi pare un po' troppo elevata. La 49enne è l'ottava vittima trevisiana della strada in poco meno di 12 giorni, una scia di sangue che sembra inarrestabile.